Cos'è il PICTE Global Environmental Opportunities Fund, GEO? GEO è un fondazionario globale. Investe in società che forniscono soluzioni per un uso efficiente delle risorse naturali e per il controllo dell'inquinamento. A nostro avviso queste società sono dei buoni investimenti perché crescono più rapidamente rispetto al resto dell'economia e avranno meno rischi. Quali sono i tratti distintivi del Fondo GEO? La definizione dell'universo di investimento è molto innovativa. Usiamo un framework scientifico chiamato i limiti planetari. Secondo cui ci sono nove dimensioni importanti per il pianeta, ognuna delle quali con un limite da non oltrepassare. Il cambiamento climatico è una di queste dimensioni, ma c'è anche la biodiversità, c'è il ciclo dell'acqua dolce, il ciclo dell'azoto, l'inquinamento chimico ed altre. Usando questo filtro siamo in grado di identificare società che operano all'interno di questi limiti planetari e che offrono opportunità di investimento in settori diversi che vanno dal software per la simulazione alla carne vegetale. Nel Fondo GEO mettiamo molto l'accento sulla tecnologia ambientale e sull'innovazione. Perché investire nel Fondo GEO oggi? La consapevolezza sui temi ambientali sta crescendo di giorno in giorno tra i consumatori e nel settore privato. Pensiamo solamente a temi come il bando dei veicoli diesel in Europa, all'inquinamento legato alla plastica negli oceani, alle crisi dell'acqua in India, alcuni temi di cui leggiamo molto sui giornali. Questa crescente consapevolezza, a nostro avviso, crea una forte domanda per soluzioni. In conclusione, in PICT Asset Management pensiamo che il tema ambientale sia un modo intelligente per investire in global equities e che la performance finanziaria e l'impatto ambientale positivo possono andare mano a mano. In PICT Asset Management